Stiamo ragionando, la strada potrebbe essere la stessa, sono venuto qua oltre per incontrare gli iscritti, per capire con la dirigenza appena eletta dal congresso qual è la loro indicazione, però i nostri limiti e le nostre barriere sono sempre le stesse, no con i 5 stelle e no con l'estrema destra. Ma anche se dovessero scegliere un candidato, un civico di campo largo? No, perché il problema è che molto spesso si scelgono i civici ma poi governano i politici e se i politici dicono no a tutti, in una città che ha un bisogno straordinario di infrastrutture, di capacità di gestione dei rifiuti, di investimenti sull'università e sulla scuola, che ha avendo pure l'università un bassissimo numero di laureati, una disoccupazione giovanile infinita e con loro non si combina assolutamente niente, l'abbiamo visto in tutte le città che hanno governato in Italia. Il modo di lavorare di azione, che poi è quello che abbiamo fatto a Roma, è sempre spiegare ai cittadini con grande nettezza che scelte vanno fatte, quanto costano le cose che fai e in quanto tempo le realizzano. Lei durante il congresso di azione ha dichiarato che il federalismo al sud non funziona perché gli elettori del sud non sono stati in grado di votare dei candidati capaci. Secondo lei perché? Per due ragioni. Prima perché l'offerta politica è sempre stata un'offerta incapace di amministrare soprattutto, di fare accadere delle cose. Pensate alle opere che sono ferme da decenni, c'è proprio l'incapacità di realizzazione. Ma dall'altro lato perché molto spesso si cade nel tranello del voto di prossimità. Io conosco il candidato, era figlio di un altro candidato, eccetera, quindi tu hai generazioni che si susseguono una dopo l'altra, sempre gli stessi. Questa cosa va spezzata perché voi siete una regione a statuto speciale, anzi la più speciale degli statuti. Dunque la questione fondamentale è ma questo statuto speciale che avete e che dovete conservare, perché non produce i risultati che produce da altre parti?